Io c'ho una cosa che ti può aiutare Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Vabbè la prova dai, tanto peggio di così Con questa la usi solo il 2% Il primo film di Marcio Capatonna E' buono eh? E' buono eh? E' buono eh? E' buono eh? Toglialo a f***** Stoppola a bay Stoppola a bay Stoppola a bay Stoppola a bay Stoppola te, stoppola te, feglielo un pozzo! Capatonda, di Maccio, Capatonda, di Maccio, il primo film di Maccio Capatonda, di Maccio, il primo film di Maccio Capatonda, di Maccio. Stoppola te! Per cento, ctue, percento, ctue, percento, ctue, percento, ctue, percento, ctue, percento, ctue, percento. E' buona! 2% 2% 2% Ma questo è un coglioni Cobare 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 Ma questo è un coglioni Cobare 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 Ma questo è un coglioni Italiano Medio Il primo film di Maccio Capatonda